Alla parte bassa dove ha sede la cattedrale con sede vescovile e in questo momento non si riesce a entrare perché stanno visitando Messa però lo spettacolo è quello che c'è sotto, quello che arriva agli scogli e al mare C'è probabilmente il portale originale che è dopo ristretto perché l'ingresso attuale porta sul fianco veramente anche per proteggere dal vento che veniva costantemente dal mare Capodista sempre che guai, non è che dice, ma che gioco di altitudine dentro fuori con la roccia Ecco noi dobbiamo andare oltre queste due punte quindi vorremmo circa un 50 chilometri da fare a rientrare e ci combattiamo in edizio